Allora ragazzi per gli amanti delle bolle, ma delle bolle quelle umili, non dei metodi champenoise, non dei metodi classici, quindi non vi parlerò di CO2, ma vi parlerò di un vino frizzante fatto come si deve e che se lo bevi godi senza aver speso chissà che cosa. E qua gli haters si scateneranno. Allora, vuoi vedere che cos'è? Ortrugo frizzante, Ortrugo frizzante, 2022, l'azienda è Il Poggiarello, vino pulito, di buona intensità, persistenza, la bolla grana fine, di buona finezza la bolla, non è fitta, ok? Non è fitta, però è di buona finezza e ben intessuta nel vino vuol dire che non ti fa l'effetto Coca-Cola. Cosa vuol dire l'effetto Coca-Cola? Quando ti esci il vino dal naso e ti affoghi quasi, si trova. E lo trovi anche in certi champagni, che magari chissà quanto li paghi, ah scusa, in certi metodi champenoise, o comunque champagne, metodi classici. Chiaramente questo lo devi collocare a tavola, non vai a fighe con questo, ma con questo ti diverti con gli amici. Oppure con una donna che abbia anche il senso dell'umorismo e non solo sia una bella donna, parliamoci chiaro. E quindi questi odori di... e poi magari mentre ce l'hai in mano di racconti della buona intensità, della pulizia, i racconti degli odori, dei ricordi di fiori di acacia, di frutta a pasta gialla, di albicocca, di pesca, no? E gli racconti magari questa sfumatura di melone giallo, ecco, magari gli racconti di queste sensazioni piacevoli. E magari gli racconti anche delle chiusure al palato, bella, piacevoli, rilassante, senza dover stare lì. Che anche con un leggero ricordo di crema, come in certi metodi champenoise. E quindi una bella chiusura, rilassante, no? Una bolla comunque fine. È un vino frizzante, non state a paragonarlo, lo dico per gli haters, non state a paragonarlo con il metodo classico, lo champagne, o il talento, o chissà che cosa. È solo per divertirsi. Il vino è anche questo. Non è fighettismo. È anche questo. Divertirsi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.